Una nuova rotonda in via Corsica a Termoli. Il cantiere è stato recintato e i lavori sono partiti. Dureranno circa un mese, andranno avanti senza arrecare particolari disagi al traffico. La zona interessata è all'incrocio con via De Pini, un'area molto frequentata e a forte vocazione commerciale dove negli ultimi anni sono spuntate come funghi tante attività. Proprio all'incrocio per svoltare si era costretti a sostare in mezzo alla carreggiata e in passato proprio in quel punto ci sono stati diversi incidenti. Da qui la necessità di trovare una soluzione e snellire anche il traffico. Ora il passaggio nella zona con la nuova rotatoria sarà più agevole. Si tratta della quarta rotonda che interessa questo tratto di statale 16. Il costo dei lavori è di 700 mila euro e comprende anche il rifacimento dell'asfalto nella parte che va dal centro commerciale Il Punto fino alla zona del parco. L'intera area verrà risistemata anche con nuovi marciapiedi e nuova illuminazione. Insomma migliorerà notevolmente l'ingresso in città. I lavori per l'asfalto inizieranno subito dopo l'ultima azione della nuova rotonda e coincideranno proprio con l'avvio della stagione quando il traffico già sostenuto sull'arteria che collega Campomarino a Termoli aumenterà notevolmente. Entro la fine dell'anno l'amministrazione guidata da Angelo Sbrocca ha in programma di realizzare anche un'altra rotonda questa volta in piazza del Papa all'incrocio con via Pertini dove verrà rimosso l'ultimo semaforo rimasto in città.